Ciao, sono Lorenzo e in Local Green mi occupo dello sviluppo della tecnologia. Ciao a tutti, sono Paolo e in Local Green mi occupo di finanza. Ciao, sono Marco e mi occupo di ricerca e sviluppo. Siamo qua all'Innovation Center Giulio Natta, alle porte di Milano, dove la natura, la tecnologia e l'uomo si incontrano. Qua Local Green ha i suoi uffici e il suo centro di ricerca e sviluppo, grazie al supporto e alle competenze di Neururale Hub. Siamo all'interno del prototipo di Local Green, qui testiamo la tecnologia che abbiamo sviluppato che ritornerà drasticamente ai costi associati al practical farming e alle automazioni necessarie per produrre. In questo prototipo sviluppiamo quello che la pianta naturalmente ha bisogno per crescere e diamo tutti i giorni dell'anno gli stessi parametri ambientali. La tecnologia di Local Green è in via di sperimentazione all'Innovation Center Giulio Natta di Neururale Hub e utilizzando l'aeroponica riesce a ridurre notevolmente i costi e ad aumentare la qualità e la produttività. Ci troviamo nel laboratorio di Neururale Hub e qui, con le loro strumentazioni e la collaborazione con il loro staff, possiamo monitorare la performance e la qualità delle nostre piante. Grazie. 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 Grazie a tutti.